Sono tornato in Romero's Aftermath Cominciamo immediatamente Con la sigla, ovviamente Ok, eccoci qua Playgame Che vi devo dire? Andiamo su PvP Notizio Diciamo un server Molto meno affollato Facciamo un 37 Non c'è cooperazione Non c'è cooperazione ragazzi In questo gioco Prendono, ti ammazzano e guardano lo zaino E rubano Non va bene, non va bene in questi giochi Bisogna avere collaborazione ando si chiama E rubano se la facciamo brava ok ci siamo siamo proprio nel bel mezzo del nulla con allo zaino ancora nulla neanche una torcia grande questa volta proprio di male in peggio allora andiamo sul primo camp per andare sul bamburg ma se il bamburg è pieno preferirei prendere questa stradella comunque adesso vado dritto per dritto cos'è questa qua? un'ombra? mamma mia allora zaini no eh subito ce l'abbiamo giù in box aspetta prendiamo intanto intanto non lo so io per il momento queste non le prenderei finchè non ho zaino capiente non conviene firewood beh chissà se no 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 eh non è trovato niente dentro lo zaino eh almeno qua siamo in zona sicura guarda dobbiamo anzi quasi quasi questo non è un problema se non ce l'ho si ok mi faccio male no perfetto grande ma ma se ti è pieno non si può non si può non si può non giocare così non va bene non va bene mi tocca fare il giro quasi quasi fare queste cittadine qui sotto da Paz Farm e poi passere per Roma non farm se ancora sono vivo chiaramente ok giriamoci un po' così e andiamo bandole cianciole qua tanto non c'è niente perfetto ci aveva il mitra quello mamma mia ragazzi mamma mia giocare a novizio in pvp è già un macello figurati a livelli più alti figuriamoci dunque M diamoci una regolata si va bene posso passare per pazzo no ok meglio là c'è un campeggio c'è qualcosa da poter andare a prendere da lì nessuno le vicinanze no perché questi non c'è da mai lì comunque ho incontrato prima qualcuno speriamo di non rincontrare la stessa persona perché se no sono guai sono guai come potete vedere se puoi praticamente estrarre della roccia ma ha bisogno di un arnese speciale quindi per ora direi di non preoccuparsi di questo però potrebbe avere delle potenzialità questo gioco potrebbe M perfetto su pazzo farm siamo qui qui sono qui qua c'è una casuccia ma anche qua guarda guarda chi è quello un zombo? questo è un zombo zambe, zambe oh qui dentro casa cosa abbiamo? non c'è praticamente c'è il vuoto assoluto grrrr non zaini eh, mi raccomando hai un knuckle sento dei rumori beh 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 sento dei rumori che non mi piacciono non prendiamo anche le scissoles dunque a livello di damage direi quello per ora lo lasciamo lì serve uno zaino chi è? ah sei te va bene vieni a posto log pile non serve per ora questa diciamo che la casa l'ho visitata tutta adesso fammi vedere un attimo l'esterno se c'è qualcosa da prendere perché dato che c'è questa casuccia qua la voglio andare a trovare subito in mezzo a queste paludi c'è c'è qualcuno c'è dai 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 lascia perdere c'è ho dei forbicioni che non se sa cosa ho preso disassemble disassemble eh il parlamento tra tutte e due disassemble derner ship clan scissor shang non se sa va bene eh ho visto un'ombra qua sono sbagliato ok sono io che ho gli incubi ok qua ops dove cercavo dove cercavo change pack ok abbiamo più posto old fire sports che non servono a nulla non servono assolutamente a nulla qua direi che abbiamo fatto questo andiamo a visitare no 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 perché pensavo di fare qualcosa no era giusto per sapere allora se scendiamo andiamo in quella zona lì che mi preoccupa mi preoccupa mi preoccupa mi preoccupa la che c'è scusatemi c'è la riunione degli zombie no vabbè qua c'è uno morto qua ci dovrebbe essere qualcuno che rompe ecco non li fare svegliare tutti stai a cuccia e muori perfetto ok ancora va walking dread va 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 no no anche te anche te no ecco ecco no ragazzi non è possibile non è possibile ma non è possibile no no niente da mangiare eh eh quelli si cos'è questo drain x bah non dovremmo prenderlo ma drain x se se cosa sarà vediamo ti sei assemblato subito perchè non ci serve qua chiaramente niente qui ok old packing tape eh prendiamolo facciamo anche questo anche questo il fischietto cosa ci devo fare col fischietto log stack log stack salt pack se no va bene non mi interessa qua non c'è niente da mangiare quello è il problema salt pack questo serve però eh 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 non c'è un po' un giubbotto antiproiettili cos'è questo? salt pack oh oh lì vedo una riunione di di ragazzi che è meglio che io me ne vado da qui tutti quanti non risvegliati vedo qualcuno in effetti la Yuma eh ragazzi però vedo uno scontro 1-1 perché non mi andrebbe tanto bene perché da dove arrivano quelli qua è tutta desolazione quindi bisognerebbe fare un'inversione del tipo questa prima che muoio vedo se c'è qualcuno che mi segue e ora nessuno quindi proseguo verso Romanov ok posso andare sanguino ma vado avanti tanto mi manca eh insomma sicuramente qualcuno si è accampato da queste parti dietro queste rocce perché questa è la strada principale il che è molto sconsigliato prendere la strada principale ok qua non ci vado sicuro vado lì ok 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 Grazie a tutti. Accampamenti. Lasciamo lo zumbo. M. Un po' a sinistra. C'è nessuno. Anche perché... Ecco. Già, Dio santo, neanche arrivo. Subito. Neanche arrivo. Subito che fucili. Ok, ma dove li avete presi questi fucili? Ok. 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 lì c'è qualcuno con la macchina. Ma probabilmente... è strana questa macchina. Molto strana questa macchina, proprio nella strada principale, è proprio nella strada come forse uno specchietto per le allodole, in effetti, è una roba brutta stare qui, che poi non c'è niente, esattamente, romanoff, andiamo dove non dovremmo andare, ma comunque sia, proviamoci, per ora non vedo nemici, ma probabilmente sono tutti chiatrati, e lì vedo una splendida cittadina da poter, questo, questo, ah, niente, scusate, junk box, cosa che c'era, ci sarà male dentro, disassemblea, ok, va bene, non c'è niente per me qui, qua qualcosa ci sarebbe, nulla, il nulla c'è, problema rimanere fuori, fuori dalle visuali, e comunque sia, se non prendo qualcosa, muoio, rop, vediamo questo loop, oh, beh direi, loop tape, non so a cosa serve, forse è la, il nastro, il nastro adesivo, qua ragazzi è difficile aggiustarsi, perché qua ti rovinano, buon cosa è, se non ho trovato un arnese, un'arma, niente, allora vado ancora qua, vedere questa machine car, ma ci sono altre macchine, ma, vecchi fuochi, qui, old fireworks, proverei a entrare dentro qualche casuccia, ma, non vedo, per ora, vedo qualcuno lì, ma è uno zombie, secondo me, si, avanti e indietro, dovrebbe essere uno zombie, boss, quella macchina non l'ho vista, ma non importa, proviamo a visitare questa casa qui, non so se, eh no, ma no, ma sono troppi, 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 siete troppi, siete troppi, direi, ecco, tornatevenne, mi serve l'opzione per, vediamo se lo trovo, auto controlli, jump, prone, interact, abuild, seconda, hr, reload, steady him, left shift, primary whip, seconda, item, item, chat, senti dei passi, modi, vediamo ad originare, lo stacco, ma qua ci sono delle piantine, eh 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 eh, fregato, 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 me ne vado intanto, me ne vado, mi tengo nei paraggi, perché qui, a fregare le piantine, un attimo, hm hm hm, ok, andiamo a vedere cosa abbiamo preso, niente, niente, dov'è, dov'è, dov'è le piantine? due sono le piantine, quattro, due, tre, ok ci sono, le piantine le abbiamo fregate, però ancora devo andare qua dentro, devo vedere, se qualcuno mi rompe, sono tutti buoni, tranquilli, tutti buoni, tranquilli, oh, qua ci sono dei buoni, dei buoni, non facciamo rumore perché quello è un classico zombie va bene, le roppe, non mi importa le roppe, non mi importa questo non so se è un sì, direi che è uno zombie, sono dormienti c'è una casa qui vogliamo andare a vedere chi c'è dentro no 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 sono morto ragazzi, se ne è uno dietro non so cosa ha in mano, non so perchè non spara ecco cosa c'è vero? ma cosa non è possibile bene ragazzi, questo è il mio uccisore The Walking Dead vi lascio, spero che vi sia piaciuto il gioco e bye bye, lasciate un like, ciao